Ciao a tutti amici di XCMardole.com e ben ritrovato da nuovo video unboxing. Questo agio abbiamo riuscito in redazione l'ultimo mosto da gaming della Phoenix. Stiamo parlando del Phoenix Vitesse. Partiamo velocemente dalla confezione, classica confezione di cartone di media dimensione e di colore bianco. I portanti è il logo dell'azienda nella parte frontale e il modello nel lato sinistro. All'interno della confezione troveremo un cartoncino riportante un email di supporto in caso di problemi con il prodotto e la scala dei DPI disponibili con questo mouse. Potremo switchare da un minimo di 400 ad un massimo di 5.000. Già su questo cartoncino possiamo vedere i colori che avremo a disposizione con i vari step DPI. Troviamo inoltre due mouse fit di ricambio ed infine troviamo il mouse, il Phoenix Vitesse. Il design del Phoenix Vitesse è molto elegante e classico, colorazione prettamente full black. Partendo dalla parte superiore troviamo una superficie soft touch e nel retro troviamo il logo dell'azienda stessa. Mentre spostandoci verso la parte avanzata troviamo due tasti facilmente cliccabili per lo switch di DPI, la rotellina di tipo cliccabile, molto silenziosa, con un rivestimento in gomma per migliorare il comfort nello scroll delle pagine web o eventualmente delle armi in gioco. Ovviamente i classici due tasti principali dotati di switch Omron. Mentre spostandoci nel lato di sinistra troviamo una scanalatura che potremo utilizzare per poggiare il pollice e quindi migliorare l'ergonomia e il comfort sul mouse stesso. Due classici tasti laterali con un buon feedback e come possiamo vedere in controluce anche un piccolo led che si rilusirà di un colore diverso per segnalarci a quale risoluzione DPI staremo lavorando. Le dimensioni del Vitesse sono pressoché piccole e medie. Abbiamo la possibilità di impugnare lo crow grip, fingertip o eventualmente anche palm grip. se dovesse avere una mano leggermente più piccola della mia. Nella parte di destra troviamo sempre una scanalatura, quindi il comfort sicuramente sarà assicurato ma lo vedremo meglio nella recensione scritta e nei test che effettueremo. Spostandoci nella parte frontale possiamo osservare meglio il design del Vitesse mentre nella parte inferiore troviamo due mouse fit di generose dimensioni che potremo intercambiare nel caso in cui si dovessero consumare velocemente con quelli in dotazione al bundle e quasi in posizione centrale troviamo il sensore che è un PixArt PMW3310 di tipo ottico quindi un sensore che già abbiamo visto in altri mouse da noi recensiti e che si presenta come un sensore molto performante e ideale per videogiocatori di FPS. Il cavo non è rivestito in treccia di tessuto ma è classico in guaina troviamo una fettuccia in velcro con la scritta Phoenix e il connettore USB è placato oro. Con questo è davvero tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta con le nostre considerazioni e i nostri test sul sito www.extreemhardware.com Un saluto a tutti lo staff Un saluto a tutti lo staff